Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In FIPILI per lavori sono possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 2 via Cassia fino al 31 marzo, senso unico alternato e restringimento di carreggiata tra i chilometri 268 e 500 e 269 e 900 circa nel comune di Barberino Tavarnelle. Per la viabilità cittadina a Firenze è prorogata fino al primo lunedì di aprile la sospensione dell'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!